Ciao a tutti, oggi prepareremo il Nutella misù o tiramisù alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono una dose di crema al mascarpone pastorizzata, latte, Nutella, savoiardi e cacao amaro. Diamo via la ricetta. Prima di iniziare la ricetta riponiamo in frigo la dose di crema al mascarpone pastorizzata che ci servirà successivamente. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale una dose del latte e lo facciamo scaldare per 3 minuti. 80 gradi, velocità 1. Aggiungiamo 400 grammi di Nutella. e chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti. 70 gradi, velocità 2. trasferiamo il composto in una ciotola, posizioniamolo in frigo e lasciamola raffreddare. Senza lavare il boccale versiamo l'altra dose di latte. e lo facciamo scaldare per 3 minuti. 80 gradi, velocità 1. Aggiungiamo i restanti 120 grammi di Nutella. e la facciamo sciogliere azionando il bimbi per 3 minuti. 60 gradi, velocità 2. trasferiamo il composto in una ciotola e lasciamola intiepidire. abbiamo ripreso dal frigo la crema al mascarpone pastorizzata, la crema di Nutella, nel frattempo la bagna per i savoiardi si è intiepidita. Adesso posizioniamo un primo strato di crema al mascarpone sulla ciotola. iniziamo con i savoiardi, li imbeviamo nella bagna e li posizioniamo. proseguiamo fino a completare il primo strato. Adesso andiamo a mettere di nuovo la crema al mascarpone. dopo aver completato lo strato andiamo a prendere la crema alla Nutella e la versiamo sopra il mascarpone. adesso proseguiamo col secondo strato di savoiardi. adesso completiamo l'ultimo strato con la crema al mascarpone. completiamo il Nutella misù spolverizzandolo col cacao amaro. adesso riponiamo in frigo per almeno tre ore il Nutella misù prima di consumarlo. Nutella misù o tiramisù alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.